La Guardia di Finanza nelle scuole con un progetto denominato Educazione alla Legalità Economica. Oggi al via il progetto al Liceo Arnaldi di Roma, promosso dalle fiamme gialle del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Testimonia alla decezione lo showman Rosario Fiorello e il giornalista Franco Di Mare. Il progetto ha come finalità quello di illustrare ai ragazzi come il rispetto delle regole a tutela della sicurezza economico-finanziaria debba essere patrimonio di ogni cittadino responsabile. Il progetto porterà i finanzieri nelle scuole con l'obiettivo di spiegare agli studenti nell'ambito dell'insegnamento di cittadinanza e costituzione il significato della legalità economica e della sua utilità sociale, con esempi concreti e riscontrabili nella vita quotidiana ed illustrando il delicato ruolo e i compiti svolti dalla Guardia di Finanza al servizio fondamentale delle libertà economiche nel Paese. Il progetto è stato presentato grazie ai contributi multimediali, due format appositamente ideati con linguaggi adeguati all'età dei giovani studenti che saranno divulgati nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, quale spunto per l'approfondimento e il confronto.